Il presidente della sezione Ascom di Ragusa, Salvo in Gallinera, ha rivolto un invito all'amministrazione comunale affinché sia avviata un'attività di monitoraggio sul territorio cittadino tesa ad accertare azioni di concorrenza sleale nel settore del commercio. Il riferimento prioritario, dice in Gallinera, basandosi sul contenuto della missiva trasmessa a Palazzo dell'Aquila è rivolto alla stagione dei saldi. Infatti in questi ultimi giorni, sulla scorta delle segnalazioni raccolte, è stato possibile appurare come alcuni titolari di esercizi commerciali abbiano attivato un sistema di attrazione della clientela attraverso una scontistica che non ha ragione d'essere in quanto i saldi non inizieranno prima di gennaio. Dunque riteniamo che sia un modo di fare scorretto che danneggia in maniera seria quelle attività commerciali che si attengono alle regole e che puntano proprio sul periodo natalizio per cercare di recuperare le falle di un'annata per niente positiva. Ci rivolgiamo all'amministrazione comunale, dice in Gallinera, affinché, attraverso il settore specifico, della polizia locale, possa attivare i controlli del caso e, se necessario, sanzionare chi trasgredisce. Questa deregulation non aiuta il settore, soprattutto quello dell'abbigliamento, ma aiuta, lo destina a compiere passi sempre più indietro sino alla chiusura di numerose attività. Per quanto ci riguarda, questa situazione è insostenibile e come Ascom denunceremo chi si comporta in maniera scorretta.